ciao ragazzi un piccolo video veloce per darvi una notizia che potrebbe interessare a qualcuno di voi allora dal 22 al 29 giugno di quest'anno e andremo in africa a fotografare un po di animali e per la precisione andremo in kenia nel parco nazionale del masai mara poi lago nakuru e successivamente nel parco nazionale di amboseli è la mia prima volta in africa io non sono ancora mai stato non è un viaggio organizzato da me ma organizzato da mia carissima amica che si chiama francesca che è una grande amante dell'africa una grande esperta dell'africa sono oltre 20 anni che organizza viaggi in africa e insomma mi sembra un'opportunità molto interessante si tratta di un viaggio diciamo low cost che ha un prezzo molto molto basso perché si dorme in campi tendati insomma un po spartano se vogliamo diciamo nella sua organizzazione però è un'ottima opportunità per chi volesse fare un un'esperienza in africa senza spendere cifre esorbitanti se qualcuno fosse interessato mi può ovviamente contattare io a mia volta rimetto in contatto con l'organizzazione vi posso anche ovviamente girare il pdf con tutte le specifiche del viaggio del suo itinerario i costi eccetera eccetera è una cosa che a me sembra molto carina soprattutto perché non avendo un prezzo eccessivo ci permette di avvicinarci a un'esperienza che sicuramente è molto particolare non so se a me verrà il mal d'africa come a molti perché ripeto è la mia prima volta però insomma già a vedere le opportunità che ci sono mi sembra una cosa estremamente interessante non è un viaggio lunghissimo come tempi sono praticamente la 22 al 29 giugno quindi è una cosa diciamo che si riesce un po' incastrare magari anche tra altri impegni quindi ecco se siete interessati se la cosa vi può sembrare allettante non esitate a contattarmi e così vi do magari maggiori indicazioni ciao e a presto